Carissimi amici della Scuola di Filosofia di Fornace, eccoci giunti all'ultima lezione del corso di Filosofia Monetaria. E quale miglior modo di concludere se non quello di dedicare integralmente del tempo a quello che fu il capolavoro di Giacinto Auriti, cioè il CIMEC? Nell'estate del 2000, stanco di attendere e desideroso di vedere finalmente concretizzati decenni di studi, all'età di 76 anni Giacinto Auriti diede vita al suo famosissimo esperimento monetario. La cittadina di Guardia Grele, 10.000 abitanti, divenne luogo dell'emissione della valuta passata alla storia con il nome di CIMEC, ovvero simbolo econometrico di valore indotto. In poche settimane il bancomat della piazza centrale della città sarebbe stato svuotato per un valore complessivo di circa 80 milioni di lire, riportano i cronisti dell'epoca e degli anni successivi. Il CIMEC fu un'unità monetaria di proprietà del portatore priva di riserva, paragonabile a un francobollo di antiquariato e Auriti nelle sue lezioni esisteva moltissimo sul confronto con il francobollo, dotato di valore per pura convenzione. La breve ma intensa vita del CIMEC può riassumersi in pochi passaggi, riscontrabili e descritti peraltro in varie opere già citate nel corso delle precedenti audiolezioni. La prima fase del progetto consiste nell'avviamento e ammetteva ancora la convertibilità CIMEC-Lira. Successivamente si sarebbero dovute creare le condizioni per il reddito di cittadinanza con il cosiddetto CIMEC fiscale, non più convertibile. Poiché l'unica moneta convenzionalmente accettata da tutti gli stati è l'oro, la nuova moneta avrebbe dovuto copiare l'oro stesso, proprio mediante la caratteristica dell'essere proprietà del portatore, ma senza riserva. Il CIMEC era privo delle controindicazioni relative agli elevati costi di produzione e alla rarità incontrollabile, questo a differenza dell'oro ad esempio. La nuova valuta ottenne legittimità con l'ordinanza del Tribunale di Chieti del 21 settembre 2000 numero 127 e con la pubblicazione sul catalogo euro unificato della moneta italiana del 2001, dove il CIMEC è così quotato, 1000 CIMEC uguale 2000 lire. Con 100.000 lire, ad esempio, si sarebbero comprati 100.000 CIMEC, ma nei negozi che lo accettavano il valore di acquisto del CIMEC sarebbe raddoppiato, così un oggetto da 800.000 lire sarebbe costato in realtà 400.000, perché alla fine del ciclo i negozianti si sarebbero ripresentati da Auritti, che avrebbe ricomprato il CIMEC al doppio. In altre parole, il cittadino avrebbe cambiato il CIMEC alla pari con la lira. Depositando 100.000 lire si ottenevano 100.000 CIMEC, ma i 100.000 CIMEC in mano al cittadino sarebbero divenuti 200.000, perché il CIMEC valeva, proprio per convenzione, il doppio della lira. Nella primavera del 2000, Auritti e un folto gruppo di collaboratori prepararono la strada al CIMEC, fondando il cosiddetto sindacato anti-usura, con Auritti in funzione di segretario generale. Il sindacato anti-usura si fece subito promotore di un appello, che così recitava. Si considera la pagliuzza della piccola usura e si ignora la trave della proprietà popolare della moneta e della grande usura. Ciò che scandalizza è che tutti riconoscono ormai la piena validità della teoria della proprietà popolare della moneta, ma presumibilmente per plagio culturale non la si applica. Al lato dell'emissione, infatti, la banca centrale emette, prestando alla collettività, il denaro che dovrebbe accreditare, perché crea il valore della moneta non chi la emette, ma chi la accetta. Pertanto non si tratta di rimettere debiti, ma di dichiarare non dovuti crediti spacciati per debiti. È questa la più grande truffa di tutti i tempi, passata inosservata perché troppo evidente. Facendo leva, infatti, sul riflesso condizionato, causato dall'abitudine secolare di dare un corrispettivo per avere denaro, le banche centrali hanno indotto tutti i popoli del mondo ad accettare la propria moneta all'atto dell'emissione con il corrispettivo del debito. Oggi mass media hanno evidenziato con grande rilievo il pericolo della guerra chimica e delle epidemie da carbonchio. Nessuno ha considerato il dramma della ben più micidiale e dell'eteria malattia sociale del suicidio da insolvenza, resa ineluttabile per il costo del denaro all'atto dell'emissione del 200%. La banca centrale emette infatti il denaro solo prestandolo e poiché crea il valore della moneta non chi la emette ma chi l'accetta, la banca addebita ciò che dovrebbe accreditare prestando il dovuto. Si invitano i magistrati, gli organi esecutivi e gli operatori del recupero crediti ad astenersi dal promuovere azione di turbativa dei debitori per la riscossione dei debiti notoriamente non dovuti, con avvertimento delle eventuali responsabilità civili e penali per i probabili suicidi da insolvenza legittima. Si impone pertanto per esigenza di salute pubblica la moratoria dei debiti in attesa che si dichiari ufficialmente di chi sia la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Fine della citazione. A giugno e a luglio del 2000 vennero stampate decine di migliaia di SIMEC in sette tagli diversi, con numeri di serie e in formato da 500, 1500, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 100.000. Queste le fattezze del SIMEC. Su un verso, a sinistra, era riprodotta un'aquila araldica che guardava a destra e che poggiava su un cerchio con all'interno la scritta del simbolo e tre spighe di grano. Il simbolo era attorniato da grappoli d'uva e foglie di vite. Sul lato anteriore, a sinistra, era impresso il contrassegno del SIMEC con la clausola Marchio registrato, riproduzione vietata. Sulla destra dell'aquila, in un esagono bianco, veniva riportato il valore del biglietto in cifre. Tra i due simboli compariva la scritta «Emesso senza scopo di lucro dal sindacato anti-usura, S-A-U-S» e il segretario generale Giacinto Auritti, con la firma di quest'ultimo. In fondo a destra si trovava il numero di serie. Sul retro, a sinistra, la riproduzione di un focolare domestico acceso era sormontata da una croce greca. A destra, la scritta «Simbolo econometrico, convenzionalmente accettato nei comuni collegati e collegabili, a norma dell'articolo 24, legge 142-1990 e legge 265-1999, in attuazione del secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione italiana». A fianco di questa scritta veniva riprodotto l'emblema dell'aquila in inchiostro speciale, per evitare contraffazioni. In alto si trovavano la scritta SIMEC e il valore della banconota in cifre. In fondo, infine, tradotto dal latino, la scritta «Non è bene vendere la libertà per tutto l'oro del mondo». L'11 luglio 2000 venne mostrato ai soci del sindacato anti-usura un primo quantitativo di SIMEC e furono stipulati gli accordi per l'esposizione delle vetrofanie sui negozi aderenti. Dopo il 20 luglio, gli acquirenti di merci iniziarono a convertire le lire in SIMEC presso la casa di Auriti, dove si trovava il famoso Borsino, e sul portone della quale era pubblicato un elenco dei negozi convenzionati. L'esperimento ebbe immediatamente successo, ma già il 28 luglio alcuni commercianti scettici segnalarono il SIMEC alla procura della Repubblica di Chieti. La magistratura potesse soltanto prendere atto del fenomeno e, data l'assenza di irregolarità constatabili della Guardia di Finanza inviata sul posto, non si verificò alcun intervento. Nei negozi dove si acquistava il SIMEC, il cassiere emetteva regolarmente lo scontrino. Il 6 agosto, in occasione della festa patronale, si tenne a Guardia Grele una mostra dell'artigianato, con numerosi visitatori da fuori città e dall'estero. Entro breve, le attività commerciali convenzionate salirono da 40 a oltre 70, con adesioni a Chieti e all'Aquila. Alcuni tagli di SIMEC furono esauriti. Guardia Grele si animò sempre più, con cittadini e visitatori che si recavano soprattutto dai piccoli negozianti, come desiderava Auriti. In quel periodo, Auriti stesso fu protagonista di numerose interviste e articoli sui quotidiani come il Daily Express, il Wall Street Journal e il Guardian. L'8 agosto, il docente fu interrogato dalla Guardia di Finanza e iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di raccolta abusiva di risparmio. Auriti avrebbe violato l'articolo 11 della legge bancaria 385 del 1993. Il SIMEC fu inoltre contestato da alcune associazioni di commercianti che accusarono Auriti di concorrenza sleale e videro nel SIMEC stesso una moneta che spingeva ad acquisti non opportunamente valutati. Il 9 agosto venne firmata l'ordinanza di sequestro preventivo dei SIMEC da parte del GIP facente le funzioni del Tribunale di Chieti, giudice unico a Ortona. Auriti avrebbe violato l'articolo 11,2 nonché gli articoli 106, 130 e 132 del Decreto Legge 385 del 1993. Le forze dell'ordine, 120 fra Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, circondarono Guardia Grele ed eseguirono perquisizioni a tappeto, sequestrando 2,5 miliardi di SIMEC su ordine della procura di Chieti. L'esperimento terminò così, nel modo peggiore, dopo poco più di 20 giorni. Decine di esercizi fra Chieti, Guardia Grele, Vasto, Lanciano, Ortona, Sante Usagno del San, Rovacri, L'Aquila e Manupello subirono il sequestro della moneta del popolo. La popolazione reagì con la raccolta di oltre mille firme a favore del dissequestro. Auriti indirizzò una lettera ai vescovi per chiedere aiuto nella difesa della moneta del popolo, pienamente in accordo con la preghiera del Pater Noster. Il SIMEC riconosceva come il povero fosse tale in virtù delle conseguenze della sua trasformazione da proprietario adebitore del denaro. Se davvero si desiderava che chiunque, anche il povero, potesse ricevere il proprio pane quotidiano, occorreva allora garantirgli la moneta per acquistarlo. Il 30 agosto il Tribunale del Riesame di Chieti dispose la revoca del sequestro preventivo dei SIMEC, che tornarono ad Auriti il 4 settembre. Fra le ragioni del dissequestro, il fatto che i commercianti vi avessero partecipato in piena libertà, accettando tutti i rischi connessi. Auriti, inoltre, non otteneva fondi dal risparmio, ma incentivava i consumi. L'esperimento monetario era espressione della libertà negoziale e dell'iniziativa economica in forma associativa. Nessuna forma di lucro, nessun guadagno personale, nessun utilizzo dei soldi ricavati dalla compravendita SIMEC-Lira. La Banca d'Italia si oppose però al SIMEC, reclamando il ruolo della Lira come unica moneta a corso legale. Il SIMEC avrebbe forse potuto riprendere vita e già a settembre Auriti ne annunciò il rientro in circolazione. Numerose preoccupazioni vennero tuttavia espresse da associazioni di commercianti e consumatori. Alcune proteste e alcuni appelli giunsero anche all'amministrazione comunale di Guardia Grele. Fra le preoccupazioni maggiori il fatto che la Procura della Repubblica avrebbe potuto fare ricorso contro il dissequestro dei SIMEC. E allora chi avesse riaccettato i SIMEC, quindi, avrebbe corso un grave rischio, perché non avrebbe avuto la garanzia di poter successivamente riconvertire i SIMEC in lire. Altre associazioni richiamarono poi l'attenzione sul rischio di inflazione locale in caso di ampio utilizzo del SIMEC. Giunse infine il paventato ricorso della Procura, che contestò ad Auriti l'esercizio abusivo di attività finanziaria e la raccolta abusiva di risparmio. Bruno Tarquini si schierò a favore del SIMEC. Numerosi sforzi, compresa la stesura di un regolamento ufficiale per una migliore circolazione del SIMEC e vari appelli di Auriti alla magistratura non ottennero esiti favorevoli. La frattura fra sostenitori e avversari del SIMEC era ormai insanabile. A ciò si aggiunse il grave timore dei commercianti di non vederli convertiti i SIMEC in lire. Un anno dopo, era il 2 luglio 2001, la Cassazione annullò l'ordinanza di dissequestro del SIMEC. Auriti non demorse e iniziò una nuova battaglia, stavolta a favore della proprietà popolare dell'euro, contestando il fatto che il trattato di Maastricht non chiarisse di chi fosse la proprietà dell'euro all'atto dell'emissione. Tutto in vano. E fra l'altro, anni dopo, la risposta al quesito di Auriti giunse. L'euro apparteneva all'eurosistema. Il 21 gennaio 2005, l'inchiesta giudiziaria portò alla condanna di Auriti nel processo di primo grado svoltosi presso il Tribunale di Chieti. Quattro mesi e 15 giorni di reclusione, più 1.500 euro di sanzione. I SIMEC precedentemente sequestrati a titolo preventivo furono ora confiscati e distrutti. Fino all'ultimo, Auriti continuò a insistere sulla piena conformità del SIMEC alla Costituzione, portando avanti la battaglia per la dignità economica dell'uomo e dei popoli. Nel maggio del 2001 inaugurò la prima giornata pubblica contro l'usura. Nel corso di una trasmissione televisiva dello stesso anno, lesse un comunicato affermante come i popoli del terzo mondo fossero, e potremmo dire siano, dilagnati dal debito prima ancora che dalla fame. Al contrario di quanto sostenuto da Maltus e dai neo-maltusiani, il cibo per tutti ci sarebbe, ma si distruggono abitualmente migliaia di tonnellate di derrate alimentari in eccesso rispetto alla capacità di assorbimento del mercato. In poche parole, il cibo c'è, solo che mancano i soldi per acquistarlo. Il reddito di cittadinanza e la proprietà popolare della moneta potrebbero risolvere il problema. Ecco il contenuto del comunicato di Auriti, che citiamo integralmente. I popoli del terzo mondo, prima di essere dilagnati dalla fame, sono dilagnati dal debito. 50 milioni di uomini muoiono ogni anno non per mancanza di derrate alimentari, ma del denaro per comprarle, come provato dalla distruzione abituale delle eccedenze di prodotti agricoli, che vengono bruciate. Poiché il denaro in circolazione è emesso a costo nullo dalle banche centrali solo prestandolo, è evidente che i vuoti monetari sono arbitrariamente pianificati dalla parsimonia feroce dei grandi usurai che dominano il sistema monetario. Solo su queste premesse ci si spiega perché l'Europa, con l'avvento dell'euro, rischi di entrare a far parte del terzo mondo. Se la BCE emetterà l'euro prestandolo, i popoli europei saranno destinati ad essere colonie monetarie dell'impero usurocratico, tanto più perché a norma dell'articolo 107 e seguenti del Trattato di Maastricht, detti popoli si sono impegnati a non manifestare obiezioni, proposte o desideri. La garanzia di un reddito minimo consentirebbe a tutti di potersi sfamare e liberarsi dalla paura di non arrivare a fine mese. Inutile parlare di diritti dell'uomo, sosteneva Oriti, se si costringe poi il popolo a vivere nell'angoscia costante. Anche per questo motivo il professore elaborò un manifesto per la giustizia monetaria, presentato dal sindacato anti-usura nel corso di un convegno di studi tenutosi a Guardia Grele il 13 settembre 2002. Il manifesto si articolava in dieci punti, che riassumono l'essenza della teoria monetaria auritiana e che costituiscono l'eredità spirituale del giurista guardiese. Primo, la moneta è proprietà del portatore. Secondo, è priva di riserva. Terzo, la rarità monetaria viene controllata ed è finalizzata agli interessi sociali. La quantità di moneta emessa deve essere incrementata in base alla necessità dell'aumento della produzione di beni e servizi. Quarto, istituzione del reddito monetario di cittadinanza. Si attribuisce a ogni cittadino una parte della moneta emessa, unica garanzia di poter ricevere il proprio pane quotidiano. Quinto, istituzione del codice dei redditi sociali per la ricezione del reddito di cittadinanza. Un codice paragonabile a quello fiscale, necessario per pagare i tributi, ma volto all'incasso del reddito. Sesto, trattenuta all'origine dei fondi necessari per assolvere le esigenze fiscali di pubblica utilità. Lo Stato trattiene quanto necessario già all'atto dell'emissione del denaro, togliendo ai cittadini la preoccupazione di pagare le imposte ed eliminando così le innumerevoli ore di lavoro indirizzate all'assolvimento di sterili adempimenti burocratico contabili. Settimo, moratoria dei debiti e sciopero dei debitori in attesa dell'accertamento della proprietà dei valori monetari e della relativa compensazione per i casi di usura, anatocismo bancario, eccetera. Ottavo, costituzione di un dicastero per il risarcimento dei danni da usura. Presso ogni comune si dovrebbe aprire un ufficio finalizzato alla raccolta di segnalazioni del predetto tipo di danno. Nono, divieto di signoraggio. A tutti viene concessa la possibilità di prestare moneta, salvo a chi la emette, poiché la creazione del valore monetario proviene non da chi la emette, ma da chi la accetta quale mezzo di pagamento. Decimo e ultimo punto, creazione di un organo di collegamento culturale fra le correnti dei vari partiti che hanno dato il benestare al principio della proprietà popolare della moneta. Ebbene, che cosa dire a conclusione di tutte queste considerazioni, di tutte queste narrazioni e premesse? Sono passati 14 anni dalla scomparsa di Giacinto Auriti, ma il suo pensiero continua a essere oggi più attuale che mai. Quanto si è verificato sul piano dell'economia internazionale dal 2008 in poi, dimostra inoltre la fondatezza di molte previsioni auritiane sull'euro e sui difetti del regime economico-finanziario vigente. Nonostante il grande impeto con il quale il docente di Guardia Grele teneva le sue lezioni, i suoi convegni e le conferenze televisive, il suo intento non fu mai quello di istigare chi che sia ad atti di forza, né egli pubblicizzò alcuna forma di manifestazione violenta. Era apertamente contrario a tutto ciò. Auriti sosteneva che ogni rivoluzione avvenuta nella storia fosse stata preparata innanzitutto da una rivoluzione culturale, intellettuale, da una scuola di pensiero formata e ben radicata. Per questo affermava come tutte le rivoluzioni fossero sempre state preparate a tavolino, e sempre per questa ragione volle anch'egli fondare una scuola di pensiero alternativo sulla moneta. In ogni suo discorso Auriti poneva la persona al centro delle dinamiche economiche. Creatura di Dio che deve attenersi a un'etica della quale ella non è padrona, la persona costituisce il fulcro dell'economia, poiché senza di lei non potrebbe esistere nemmeno il fondamento stesso dell'attività economica, ovvero la moneta, il cui valore scaturisce dalla convenzione sociale, vale a dire in ultima istanza dall'esistenza di persone. Così, il compito di chiunque voglia portare avanti il pensiero di Auriti anche nella contemporaneità non può consistere nella volontà di ribaltare ogni struttura esistente. Pur nei loro limiti e difetti, economia e mondo internazionale potrebbero essere riformati dall'interno in modo totalmente pacifico. Tutto ciò, ad esempio, cominciando a riflettere e a parlare in pubblico dell'alternativa al sistema vigente, indipendentemente poi dal nome che si desideri darle. In fondo, che l'unità monetaria utilizzata sia l'euro, la lira, il marco, il bencor, il simeco o quant'altro, non fa differenza. Il problema della moneta va infatti affrontato alla radice, non in superficie, come la diatriba tuttora esistente, presso alcuni luoghi della politica, fra euro e lira, meglio l'euro o meglio la lira. È alla radice della natura della moneta che si trovano quesiti come di chi deve essere la proprietà della moneta. Posto che l'economia è una creazione dell'uomo per l'uomo e non un'entità sovraumana se stante e autosufficiente che deve governare l'uomo? Esiste un modo per riformarla e migliorarla? In quale modo la politica potrebbe concretamente operare sull'economia e collaborare con essa in modo da renderla più umana? Come tentare di rimediare alla situazione di angoscia costante nella quale l'uomo vive? Sono i generi di domande che dovremo porci nell'epoca attuale. Di certo, se la situazione non verrà affrontata al meglio e presto, alle future generazioni non resterà, salvo qualche raro caso, che un drammatico baratro verso la disperazione o l'accontentarsi della pura sopravvivenza in un regime di schiavitù monetaria, proprio come sosteneva Auriti. Grazie a tutti.